puoi andare in onda alle 20 ok accetta terry vediamo se tutto va esattamente come deve andare secondo me secondo me ci siamo secondo me sì siamo siamo in diretta allora questo io posso tirarlo via e riprendermi scusate un attimino il mio zoom eccolo qua si fammi controllare anche su facebook se la diretta sta già girando come deve girare beh ciao terry innanzitutto ma ciao ale ah ok sì ci siamo ci siamo vediamo se accetta ok c'è daniela modina ciao daniela ciao ciao daniela e antonia titi marchitelli ma ciao che ci fate qui e adesso adesso antonia te lo raccontiamo che cosa che cosa ci facciamo qua non non te ne andare perché è interessante possiamo annunciare questo ci troviamo qui per la mia incazzatura ecco ecco dico solamente questo però poi c'è anche ornella che ci dice ciao a tutti ciao c'è rossana ciao c'è nicola cisternino ciao nicola ma guarda quanta bella gente c'è la simo ciao simo ma tu le vedi tutte queste belle persone già mi fai le sorprese le dirette sorpresa mi dice che sei incazzato poi tu vedi io non vedo niente ma io saluto tutti lo stesso ciao ragazzi è arrivata anche rosi c'è anche la valli attenzione mario napoli ciao mario sì sì daniela è una sorpresa una sorpresa ma vediamo se sarà una sorpresa dolce o amara lo vediamo con l'andare avanti della diretta tra l'altro c'è anche una news una cosa che proveremo a fare stasera in diretta per la prima volta ovvero andare in diretta anche sulla pagina instagram degli imprenditori della bellezza quindi adesso che cosa succede che la dolce terry in diretta in diretta proverà ad andare in diretta su anche sulla pagina instagram quindi vediamo se riusciamo con i nostri potenti mezzi a fare tutto questo di cosa si parla mario prova a indovinare di che cosa si parla si parla di video ma parleremo di video in una maniera un po' particolare perché ve lo ripeto sono incazzato ed è per quello che siamo qua in in questa diretta terry non lo sa perché io sono incazzato l'ho tipo chiamata l'ho tipo chiamata non so non mi ricordo a meno quando è stato un paio d'ore fa gli ho detto terry andiamo in diretta ci sei io non so neanche se ti ho mai visto incazzato ale cioè adesso voglio proprio vederti incazzato in diretta adesso mi fai questa diretta incazzato allora tu è partita la diretta giusto sì è partita perché la vedo se tu mi inviti nella diretta degli imprenditori della bellezza su instagram arrivo anche lì cos'è meno poi possiamo possiamo partire io ti ho invitato oh ma a me non mi è arrivato nessun invito ma adesso prova rifarlo dai prova rifarlo prova a rinvitarmi intanto io vedo se qui riesco direttamente invito inviato mac a vedere i commenti io ti ho invitato adesso tu devi accettare l'invito però allora aspetta un secondino sai che a me non è ancora arrivato nulla mannaggia mannaggia abbiamo fatto la prova prima è andato e adesso non va facciamo così terry dai prova a uscire un attimo da instagram a rientrare prova a far cadere un attimino però perché io vedo la diretta ma non mi è arrivato o eccolo qua adesso mi è arrivato adesso perfetto adesso dovrei essere in diretta aspetta che posiziono il telefono sì dovremmo esserci entrambi dai bionda ma ce l'ho fatta hai visto bionda ma ce l'hai fatta sì vediamo se qualcuno in in diretta su instagram ci conferma che anche su instagram sta andando tutto che io mi sento che terry si sente salutiamo anche gli amici di ciao ma danni ci stai seguendo anche da instagram con un altro profilo sei dappertutto praticamente brava brava adesso da qua però io mannaggia una miseria c'è una sorta di piccolo problemino cioè che non riesco più a vedere però il commenti e i commenti quelli di facebook mannaggia la miseria c'è ma perché non riesco più a vederli scusami io non li vedevo neanche prima ale però guarda io sono veramente ok no 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 adesso sì che li vedo ok adesso sì che guarda c'è anche michela foschi c'è debora cisiano c'è gina c'è mamma mia quanta gente come contento bene allora terry tu dici che io sono curiosa io sono curiosa io voglio sapere perché sei incazzato ale va bene allora praticamente vi racconto io intanto terry ho un pochettino di ritorno non è che magari hai il cellulare che ancora un pochettino alto l'ho azzerrato dice che sono io il ritorno vabbè diceci diteci se si sentono dei ritorni strani o se o se invece sentite quello che che diciamo bene allora no non vedo che dicono che ci sono ritorni strani no no perché non sento niente però niente ritorni niente no perché voglio che la mia incazzatura arrivi con un audio decente non voglio un'incazzatura ritorno rullo di tamburi dai sentiamo ale perché sei incazzato vai allora praticamente che cosa è successo questa mattina questa mattina succede che mia sorella a un certo punto viene giù da me e mi dice andiamo a fare un giro con il cane e allora io che lavoravo già da qualche ora ho detto va bene vengo a fare un giro con il cane vado a fare questo giro con il cane e praticamente succede che mia sorella intanto che stiamo camminando mi dice ah ti ho detto che cosa ho regalato a jack jack è il suo compagno per il compleanno che è tra un mesetto e no che cosa gli hai regalato e praticamente mi fa vedere che gli ha regalato un weekend in questo posto in toscana incredibile perché mette a disposizione degli alloggi che sono davvero molto molto particolari al che io così le dico ma come l'hai ritrovato sto posto spettacolare qua e lei mi ha detto ma l'ho visto da una storia di tiktok perché le persone che gestiscono il posto usano tiktok fanno delle storie e quindi da lì poi sono andata sul sito eccetera eccetera insomma quando mia sorella mi ha raccontato questa cosa mi è tornata alla mente una cosa che dico spesso riguardo all'importanza dei video e a quanto fanno parte del processo di acquisto cioè di quel processo che porta le persone ad acquistare un prodotto piuttosto che ad affidarsi ad un professionista esattamente lo stesso processo che ha portato mia sorella a vedere un video su tiktok per poi andare a prenotare un weekend nel posto che il video faceva vedere vabbè finisce questa cosa me ne torno con con mia sorella e con il cane a casa e mi rimetto a lavorare il programma della mattinata prevedeva che io mi tuffassi terry nel video che hai fatto tu sul gruppo imprenditori della bellezza quello dell'ultima sfida quella dove quello dove racconti il tuo modo di vivere la professione agli imprenditori della bellezza esorti gli imprenditori della bellezza a fare altrettanto ecco quando sono andato a vedere questo video ahimè mi sono reso conto mannaggia mannaggia che le interazioni di quel video di quella sfida rispetto alle sfide precedenti insomma erano veramente molto molto basse del tipo che ho visto che nelle sfide precedenti c'erano una roba come 170 180 commenti una sessantina di video di imprenditori della bellezza che si sono messi in gioco e questa quantità di imprenditori della bellezza è drasticamente diminuita quando è arrivato il tuo ultimo video quando hai chiesto agli imprenditori della bellezza di mettersi in gioco in questo modo raccontando il loro modo di vivere la professione e allora porca miseria vivendo queste due momenti quindi prima l'esperienza vissuta da mia sorella che mi fa capire quanto dannatamente sono importanti i video e poi vedere che proprio all'ultima sfida perché quella era l'ultima sfida di quella serie che tra l'altro era quella più importante perché quella che ti dava modo di raccontare il modo nel quale vivi la professione quindi una cosa estremamente importante nel momento in cui puoi farti conoscere vuoi farti apprezzare vuoi farti scegliere e insomma c'è stato un po di fuggi fuggi generale no però ale era la settimana di pasqua io li giustifico gli imprenditori della bellezza era la settimana di pasqua vedrai che adesso che l'hai detto che sei incazzato vedrai che poi da domani pubblicheranno i loro video ah quindi tu dici che in qualche modo comunque vedi che la mia incazzatura è servita perché adesso sta guardando questa diretta dirà domani mattina faccio un video e lo pubblico sotto al video sfida di terry nel quale racconto sono sicura come vivo la mia professione va bene intanto io vado a vedere nei commenti se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire a questo proposito michela fossi dice eravamo impegnati nella settimana pre pasquale vedi vedi bene antonio e titi marchitelli dice io ho prenotato il prossimo weekend in un albergo in molise perché la l'unica zona che avesse un bellissimo video ecco qui vedi bene dimmi te dimmi dimmi terry vedo che no volevo sì voglio dirti questo e lo voglio dire a tutti gli imprenditori della bellezza che fare quel video la comunque mi ha permesso come ho già raccontato nell'altra diretta in cui abbiamo fatto di avere le idee più chiare sul come vivo veramente la mia professione e quindi quello che faccio veramente da terry martin progetti di bellessere e tante volte magari sottovalutiamo questo aspetto ale che ci focalizziamo sul fare il video e basta quando invece fare il video poi ti apre un mondo su tutto il resto e ti fa fa sì che la tua comunicazione diventi più efficace anche nella chiacchierata di tutti i giorni e quindi ecco perché esorto gli imprenditori a rivedere quel video sfida e mettersi in gioco e a provare a descrivere quello che fanno nei loro saloni perché sembra scontato e banale ma mettersi lì a preparare un contenuto per poi esporlo davanti una videocamera non è la stessa cosa che raccontarlo tutti i giorni in salone sì tra le altre cose a questo proposito ho visto un tuo commento a un commento sotto al tuo video qui c'è un casino comunque ho visto un tuo video commento a un video fatto da mario napoli nel quale per l'appunto gli raccontavi come metterti in gioco e fare video quindi a raccontare di te in un video di quello di che fai di come lo fai del perché lo fai così ti ha permesso di schiarire alcune idee alcuni concetti che avevi in testa e io mi trovo assolutamente d'accordo con questo perché per me è stata esattamente la stessa cosa cioè quando mi sono approcciato al mondo dei video e ancora prima al mondo della scrittura mi sono reso conto di una cosa estremamente semplice e banale ma che molte volte non non percepiamo le idee che abbiamo in testa i contenuti i concetti che abbiamo in testa finché rimangono in testa sono nebbiosi anche per noi diventano concreti e chiari quando nel momento in cui dobbiamo comunicarli e andiamo a metterli o su un pezzo di carta oppure andiamo a comunicarli perché stiamo registrando un video e comunque se registriamo un video dobbiamo comunque averli preparati quei contenuti attraverso uno schema attraverso ci sono diversi sistemi ma in ogni caso se voglio esprimere un contenuto in video quel contenuto lo dovrò preparare e nel momento in cui lo preparo quel contenuto poi diventa parte di me perché sono io che lo sto sviluppando sono io che ce l'ho in testa e lo sviluppo per tradurlo in che cosa in una comunicazione che deve essere efficace e allora in quel momento che poi cominci veramente a fare la differenza perché perché hai da esprimere dei contenuti che sono potenti e come dici tu molto bene terry come hai detto tu molto bene molte volte i contenuti potenti arrivano proprio grazie al fatto che sei lì che produci un video e quindi se contenuti hai bisogno di tirarli fuori per forza c'è poco da fare sì sì condivido pienamente anche perché quando vai a preparare un contenuto fai della ricerca io mi sono trovata a parlare di alcuni shampoo di alcuni servizi che facciamo in salone per farlo fai della ricerca e questa ricerca poi ti porta a sviluppare altri contenuti ma oltre che a sviluppare dei contenuti e quindi a prepararli per fare i tuoi video ti cambia proprio il modo di esporli io mi rendo conto che nel momento in cui ho preparato il contenuto mi ritrovo poi in salone ad esporre quel contenuto alle mie clienti in maniera completamente diversa e questo fa sì che poi si aumenti anche la rivendita riesci a vendere in maniera diversa i servizi ti approcci in maniera completamente diversa la comunicazione prende un'altra un'altra via sì nel frattempo terry salutiamo gli amici di instagram perché tu sei un po a favore di facebook in questo momento io credo di sì io credo di essere un po' più neutrale da quello che vedo nel senso che sono un po centrato fra il cellulare dal quale sta andando la diretta su instagram e il mac dal quale sta andando la diretta no scusate adesso sei proiettata verso verso instagram amici di instagram ciao ciao a tutti prima di andare a vedere un po' di commenti perché ad esempio ce n'è uno di michela foschi che vabbè te lo dico dopo che cosa dice michela foschi perché è abbastanza interessante per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando facciamo un riassunto a carattere generale terry che cosa sì giusto praticamente all'incirca due mesi fa io e terry abbiamo cominciato a lanciare delle sfide sul gruppo imprenditori della bellezza sul gruppo facebook imprenditori della bellezza delle sfide volte a far sì che gli imprenditori della bellezza si mettessero in gioco e cominciassero a produrre dei video quando questa diretta sarà finita andremo a mettere tutti i link di tutte le varie sfide che ci sono state di modo che se non hai partecipato a tutte le sfide o se manco sapevi che ci fossero queste sfide puoi andare a vedere di che cosa si tratta e poi volendo partecipare ovviamente si tratta di mettersi in gioco per produrre video e perché bisogna fare questo lo abbiamo detto all'inizio perché i video sono sempre più importanti nel processo di acquisto che porta le persone a scegliere un prodotto piuttosto che un professionista noi imprenditori della bellezza per farci conoscere apprezzare scegliere della nostra clientela ideale abbiamo questo straordinario strumento a disposizione che sono i video i video benissimo allora praticamente ehm ti dico terry aspetta un secondo eh io non è daniele daniele ripari intanto ci fa una domanda e beh innanzitutto ciao daniele ciao ale ciao terry vorrei fare una domanda se possibile una volta fatto un video con il cellulare se volessi tagliare i tempi morti a aggiungere effetti o musica come si fa esiste un'applicazione specifica per il montaggio grazie comincio a risponderti io daniele poi sentiamo se anche te arriva qualcosa da dire allora di applicazioni per il montaggio ne esistono una caterva più o meno ce n'è veramente per tutti i gusti io mi permetto di consigliarti quella che molto semplicemente utilizzo io perché è quella con la quale mi trovo meglio quella più veloce più intuitiva si chiama in shot e io personalmente la utilizzo da cellulare perché poi chiaramente tu puoi decidere di post produrre i tuoi video e quindi di tagliare i tempi morti di aggiungere le musiche di mettere i titoli insomma di fare un sacco e mezzo di cose puoi decidere di farlo sia da cellulare che da pc se vuoi un consiglio spassionato se sei all'inizio tutta la vita dal cellulare di modo che giri il video con il cellulare post produci il video sul cellulare dal quale l'hai girato con l'app di montaggio e poi pubblichi quel video sulle tue pagine social dove lo devi pubblicare sempre dal telefono con il quale hai fatto tutto e questo rende il processo che ti porta a produrre un video sostenibile ed è molto importante che il processo sia sostenibile proprio prima che cominciasse questa diretta quando ci siamo collegati io e terry terry mi raccontava di come si sta strutturando per farsi un piccolo studio di registrazione a casa e discutevamo del fatto di quanto è importante avere tutto che funziona immediatamente cioè nel momento in cui ti metti a fare i video non devono esserci troppe complicazioni perché altrimenti viene fuori un casino è come se tu devi andare in palestra però ti alzi la mattina per andare in palestra e non hai la borsa pronta perché dalla volta scorsa te la sei dimenticata quindi sai che devi mettere a posto la borsa poi ti rendi conto anche che porca misera non ho al pieno la macchina devo pure fermarmi a fare benza cioè le probabilità di andare in palestra crollano lo stesso discorso è per i video quando produci video devi sederti premere accendere una luce cioè sederti accendere una luce accendere il microfono si usa il microfono e premere re finito e in questo caso fare tutto dal cellulare ovviamente ti aiuta tantissimo in shot terry tu cosa usi se usi qualcosa di diverso da in shot no no uso in shot perché lo trovo molto intuitivo molto semplice da utilizzare noi facciamo dei reel in maniera molto semplice con in shot quindi lo consiglio anch'io e però poi c'è il canale youtube si può dire il canale youtube di assolutamente sì 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 nel canale youtube di protago come dice bene terri ci sono un sacco e mezzo di tutorial fatti d'agostino che vi possono davvero tornare utili vai vai a vederlo adesso non mi ricordo che ha fatto la domanda però andate a vederlo perché veramente daniele si mario napoli ci dice io un video parlato non lo farò mai mario napoli e mi rendo conto della difficoltà che ci può stare dietro a fare un video parlato perché anch'io la prima volta che mi sono trovato a fare un video parlato ho avuto qualche difficoltà si tratta di scegliere devi essere consapevole che i video sono uno strumento che spacca e se rinunci a fare video rinuncia a una fetta della tua clientela ideale se lo accetti e sei disposto ad accettare questa cosa ok l'importante è che la sai michela foschi ci chiede quanto sei dispansi a me lo chiede quanto sei disposto a spendere per il mio video ma io ho già la lewi ho già ho già terri vabbè proseguiamo simona martini appena guarisco ti farò il video come promesso va bene simo barbara civettini ci dice io ti ringrazio per i tuoi consigli sono stati chiarissimi ho visto da poco la tua risposta sì ti ho risposto oggi barbara tra l'altro complimenti per il tuo video perché come ti ho detto nella risposta che ti ho dato il fatto di aver seguito tutte le sfide ti ha fatto davvero fare dei balzi in avanti molto molto importanti e ho visto che addirittura quella tua paura riguardo al dialetto secondo me poi correggimi se sbaglio ma ormai l'hai abbandonata anzi ti dirò di più ci sono alcuni momenti in cui la stai cavalcando esattamente come ti avevamo suggerito e quindi questa cosa qua è spettacolare perché se non vado errato una delle tue paure riguardo al fare video riguardava proprio quello ovvero il fatto di questo accento bergamasco bresciano adesso non ricordo che si sente particolarmente bresciano sì sì è vero che ha detto sì e invece grande grande brava 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 complimenti sì ma poi adesso apre una parentesi ale non so se siete andati a vedere i video commenti che fa ale sono dei mini corsi perché anche oggi ne ho ascoltati due che hai lanciato lì sotto la sfida e anche solo semplicemente il dire non so chi l'hai detto adesso non ricordo ma non dire adesso vi spiego cosa faccio in salone ma adesso vi racconto sì è illuminante è una chicca secondo me questa cosa qui sì tra l'altro questa chicca che hai tirato fuori è bene anche condividerla con tutti anche con chi non ha accettato le sfide non ha fatto video però sono sicuro che anche in virtù di questa chicca ed è tutto il meccanismo che hai spiegato terry andrà a curiosare e gli verrà la voglia di partecipare di che cosa sta parlando terry del fatto che lo spiegare il qualcosa a qualcuno ti pone inevitabilmente su un gradino più alto rispetto a quel qualcuno quindi se quando stai comunicando one to one piuttosto che uno a tanti piuttosto che davanti alla telecamera ehm dici più volte ti spiego adesso ti spiego ti voglio spiegare a un certo punto risulti un pochettino antipatico perché insomma ti stai mettendo a un ad un gradino superiore rispetto al tuo interlocutore perché perché ti voglio spiegare allora basta semplicemente fare che cosa sostituire la parola spiegare con la parola raccontare e allora vedrete che succedono delle cose diverse chiaro non è che succede il miracolo la comunicazione efficace è fatta di tecniche da imparare ok su questo non ci piove ma è fatta anche di tanti piccoli dettagli che anche presi singolarmente possono fare la differenza la differenza questo è uno di quei dettagli come ad esempio il fatto di non usare il no nel momento in cui si risponde ad esempio ad una cliente al telefono che vuole prendere un appuntamento ma non c'è posto ecco abituarsi a non dire no ma a raccontarle in maniera diversa che non c'è posto anche questo è un dettaglio che può migliorare la comunicazione e insomma ci stiamo perdendo nei meandri della comunicazione efficace ritorno al ai commenti letizia antoniello ti dite ti dice sante parole terry non so riguardo a cosa perché il commento di undici minuti fa e non mi ricordo undici minuti fa che cosa hai detto nel frattempo vedo che da instagram ci sta guardando niente po po di medo che afrodite not only air sarà il nostro no è impossibile non è tecnologico a tal punto sarà glaia sicuro ma se sei tu manifesta ti scrivi un commento ti prego e fai il video che non l'hai ancora fatto c'è la miseria no ma guarda che lui è diventato molto bravo ecco la tecnologia sì 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 ma nessuna corte di questa cosa qui già il fatto che riesce ad accendere il cellulare credo che sia un ottimo passo avanti michela foschi nel frattempo risponde a mario e dice mario non ti preoccupare ne facciamo uno insieme alla coaching class a maggio di video perché mario prima aveva detto io di video non ne faccio manco morto se devo parlare bene credo che abbia risposto a lui almeno è che poi lui scrive molto bene perché ho letto qualche post suo e quindi penso che questa comunicazione puoi tranquillamente anche trasferirla in un video a mario tra l'altro poi devi sapere che mario risponde michela dicendo tu lo sai che io per te mi butterei nel fuoco ma video che parlo io no mario secondo me diciamo che michela possiede tutte le tutte le carte per poterti convincere a fare un video anche dove parli dal mio punto di vista poi c'è lucia diciamo che al di là della pasqua questo video era più impegnativo qui bisognava tirar fuori chi siamo cosa facciamo e per chi e dopo aver visto quello di terry ti tremano le gambe si lucia allora è assolutamente così è chiaro che l'ultimo video sfida sull'ultimo video sfida abbiamo spinto un pochettino l'acceleratore e io e terry ci siamo confrontati riguardo a questa scelta cioè prima di pubblicare il video sfida ci siamo sentiti e vi hanno detto benissimo continuiamo con la modalità che abbiamo tenuto fino adesso che comunque è andata leggermente increscendo perché se tu guardi dal primo video sfida dove abbiamo semplicemente chiesto di raccontare una parte della propria giornata in maniera leggera al penultimo video sfida c'è comunque una progressione il penultimo è quello mio dove faccio vedere il mio salone lo racconto e chiedo agli imprenditori della bellezza di fare altrettanto arrivati al quarto abbiamo preso la decisione con il quinto di sì fare uno step in più però ci sta ci sta perché dobbiamo capire che dobbiamo metterci in gioco e quale miglior modo di raccontare chi siamo e quello che facciamo anche perché poi diventa sacrosanto quello che ha detto prima terry c'è proprio questo il punto è chiaro che nel momento in cui senti terry che si presenta in quel modo un pochettino ti tremano le gambe ma terry te l'ha detto prima perché si è riuscita a presentare in quel modo si è riuscita a presentare in quel modo perché perché l'ha preparato perché l'ha preparato e averlo performato in video che cosa le ha fatto fare poi le ha permesso di performarlo anche dov'è che eri terry dal fiorista ma se infatti guarda poi tra l'altro ale quella cliente a cui ho dato il biglietto da visita è venuta proprio ieri in salone quindi su due biglietti da visita consegnati una è ritornata un è tornata un è venuta ma per chi non lo sapesse io poi ho usato quella performance lì in fioreria quando mi è stato chiesto appunto non è che mi è stato chiesto che lavoro fai ma c'era un dibattito con una panettiera che stava raccontando quanto faticoso fosse il momento della pasqua per le focacce e la fiorista che mi conosci metto beh terry anche per te sarà una settimana impegnativa ho detto sì però io la sto vivendo in maniera diversa perché per me è il lavoro e lì ho detto la mia citazione di confucio che mi era fresca proprio per la per il video che avevo appena fatto e ho raccontato quello che facciamo da terry martin progetti di bell'essere magari l'avrai detto lo stesso però non con la stessa efficacia sta di fatto che lì due persone mi hanno chiesto il biglietto da visita che erano lì in attesa come in cassa e una delle due ieri è venuta in salone quindi voglio dire come dici le cose fa tutta la differenza del mondo naturale che quando alcune cose vanno strutturate vanno pensate vanno strutturate ci sono delle tecniche per farlo e sicuramente ti cambia proprio il modo di porti cambia la tua autorevolezza cambia cambia tutto non solo io continuo a dirlo non solo per il mondo del video cambia proprio il tuo modo di vivere il lavoro in salone con l'ambito ambito ambito fondamentalmente assolutamente tra l'altro adesso leggo un commento che ahimè non mi dà modo di vedere il nome però ci chiede in quanto alle dirette su facebook cosa ne pensate grazie per tutto il vostro aiuto se ci stai chiedendo e mi dispiace non riuscire a capire chi tu sia se le dirette su facebook funzionano ancora allora sicuramente anche noi su facebook abbiamo visto un un'interazione minore rispetto a prima e proprio per questo motivo in questa diretta a sorpresa stiamo addirittura sperimentando sia su facebook che su instagram che tra l'altro è molto molto semplice perché ti vorrei proprio far vedere io come sono qui sono semplicemente con il mio pc dal quale sto trasmettendo su facebook e oltre il pc o il cellulare che mi sta inquadrando che sta trasmettendo da instagram quindi io credo che insomma le dirette su facebook non sono sicuramente da interrompere però bisogna sperimentare e poi capire come insomma in che direzione va il vento perché con i social tutto cambia molto molto velocemente vediamo ah c'è anche gianluigi ciao gianluigi c'è diana ciao diana niente michela fossi sta scrivendo veramente messaggi a ripetizione non ti leggo più michela fai tu è michela non so c'è daniela modina dice ragazzi continuate con premi rec è molto coinvolgente sì tra le altre cose daniela è un'altra di quelle persone che è stata particolarmente costante con le sfide che abbiamo lanciato gli e terry e i risultati si sono visti vi vi basta andare a prendere il primo video di daniela che trovate sotto la prima sfida e l'ultimo video di daniela che trovate sotto se non vado a rato la penultima sfida e vedrete proprio la differenza che è data dall'allenamento che daniela si è messa a fare nel momento in cui ha accettato tutte le varie sfide mio mie e di terry mario napoli io mi vergogno porca pupazza sì devo dirti mario che anch'io mi vergognavo all'inizio credo che anche terry si vergognasse all'inizio credo che anche micco dell si vergognasse all'inizio quando ha cominciato a fare i suoi video su youtube che adesso gli hanno permesso di costruire un canale incredibile è più che normale è diffusa questa cosa sì sì poi è chiaro che nel momento in cui prendi confidenza insomma le cose le cose cambiano quello che è anzi dopo dico una cosa a proposito di questo adesso un attimo a vedere a vedere ancora i commenti alessandro incazzati tutti i giorni ma poi sai rosanna incazzato cioè puoi capire quanto mi posso incazzare io quello che si incazza lele di solito non io ero preoccupata adesso non lo sono più mi ha detto sono incazzato ero preoccupata allora qua antonia titti ci dice io ho serie difficoltà a fare i video perché la camera mi inibisce non ricordo più quello che mi ero preparata scrivendolo è proprio brutto leggere il testo allora antonia il discorso è questo probabilmente l'errore sta proprio nel fatto che tu hai scritto il testo ovvero se tu scrivi parola per parola tutto che vuoi tutto quello che vuoi dire nel video e poi speri di ricordarti tutto a memoria e allora farai una cinquantina di take probabilmente perché perché continuerai a fare errori perché non trovi dopo un po le parole giuste che ti eri scritta che cerchi di ricordarti e poi il fatto che cerchi di ricordarteli ti incasina ti fa andare in paranoia perché te le devi ricordare poi se non me le ricordo insomma il fatto di scriversi il testo e di volerlo imparare a memoria innesca una serie di casini che sono inauditi quindi quello che ti consiglio è di non scrivere il testo parola per parola ma di farti uno schemino che ti permette di dare un occhio su quelli che sono gli argomenti che devi trattare quindi questo è sicuramente il mio consiglio non so se te hai voglia di dire qualcosa di sì perché io ho fatto questo errore ale lo so è per quello che ho chiesto e premuto rec 2000 volte perché se non mi usciva esattamente la parola che mi ero scritta non mi andava bene non mi piaceva con il risultato finale poi di non di non essere autentica si vedeva che era se tu vai a vedere i miei primi video sul canale sul canale youtube vedi che è un po meccanico no e all'inizio magari ci sta pure che sia un po più meccanico perché vuoi memorizzare alcuni termini però è la cosa più sbagliata che puoi fare adesso mi faccio veramente lo schema e poi mi creo il mio il mio ragionamento il mio discorso e vado come se come se dovessi parlare in salone e un po alla volta vedi che le cose poi tornano perché altrimenti diventa troppo meccanico e perdi di autenticità e questa cosa qui si vede si percepisce sì sì poi diventi un robot tra le altre cose a questo proposito bisogna poi dirla tutta esistono delle app sul cellulare che tra l'altro funzionano molto bene e non vi nego che certe volte le uso anch'io di che cosa sto parlando di una cosa che si chiama teleprompter che cos'è il teleprompter e come funziona praticamente tu scrivi un testo ok e poi inserisci il testo nell'app teleprompter l'app teleprompter ti dà la possibilità di far partire il video e nel momento in cui parte la registrazione del video tu nello schermo del cellulare vedi quello che hai scritto vedi il testo e il testo scorre lentamente a una velocità che decidi tu di modo che tu semplicemente puoi guardare il cellulare e leggere il testo ora questa è la la soluzione al tutti i mali adesso che c'è il teleprompter diventeremo tutti dei fenomeni a fare video assolutamente no perché perché il teleprompter è uno strumento vantaggioso nel momento in cui sei capace di utilizzarlo e utilizzare il teleprompter non è così scontato sapere utilizzare il teleprompter non è così scontato perché questo proprio perché se leggi parola per parola o sei molto bravo a interpretare quello che leggi o altrimenti sembri finto molto semplicemente quindi la soluzione migliore è sicuramente quella che ti ha detto terry gina ci dice io l'ho fatto un video poi mi sono riguardata ed ho capito tante difficoltà mi vergogno tantissimo ma ci riproverò gina al di là del fatto che sono molto contento del fatto che tu ci riproverai con questo commento tu hai detto una sacrosanta verità in realtà riprendersi mentre si comunica è vantaggioso anche se i video per assurdo non li devi nemmeno fare proprio perché come ci dice gina nel momento in cui ti riguardi mentre comunichi capisci delle cose di te che prima non non sapevi e non le sapevi molto semplicemente perché non ti sei mai guardato e questa stessa tecnica io la suggerisco anche nel momento in cui ognuno di noi vuole lavorare sul proprio stile io la suggerisco proprio dicendo che cosa quando stai lavorando in salone quando stai tagliando quando stai fonando quando stai colorando quando sei a lavatesta in fase di consulenza riprenditi riprendi quello che stai facendo e poi guardati come sei in salone e scopri delle cose chiaramente che non conosci e questo è il primo presupposto per fare delle valutazioni ed eventualmente capire come evolvere il proprio stile come cambiare questo quell'altro come smettere di fare alcune cose come cominciare a farne delle altre insomma vogliamo un po dalla comunicazione efficace allo stile ma ci sta del resto questa terre è la nostra diretta sorpresa e facciamo quel cacchio che vogliamo esatto sono d'accordo che poi è quello che si fa anche a percorso protagonista no che si viene ripresi e poi si va ad analizzare insieme lo stile di comunicazione si parte da lì si parte da lì sì sì e tra l'altro a questo proposito io la prima volta che mi sono visto in video a comunicare è stato proprio il percorso protagonista e per me è stato ti dico un bel pugno nello stomaco perché perché quando io sono arrivato a fare il percorso protagonista che ricordiamo è un corso sulla comunicazione efficace io arrivavo con una buona dialettica con insomma un linguaggio piuttosto forbito un vocabolario di un certo tipo e quindi sono arrivato abbastanza sicuro di me perché ho detto ma sì ma tanto sono capace di parlare bene e quindi me la caverò in realtà poi ho scoperto che il che tra il parlare bene il comunicare in maniera efficace soprattutto nel momento in cui sei davanti a un pubblico soprattutto nel momento in cui sei davanti a un video ecco insomma c'è una una piccola differenza che era sì sì teare assolutamente sì riguardarsi in video è fondamentale ed è per quello che ha percorso protagonista succede anche questo comunque sappi che diana fabris ti dice parliamo della terra della sua inflessione veneta potrebbe diventare un segno distintivo ma io l'ho detto tante volte raccontiamola questa cosa magari qualcuno la sa già però ma che ti blocco la diretta e cosa vuoi raccontare ma tanto me la puoi me la puoi bloccare su instagram ma va avanti su facebook quindi in ogni caso voi dovete sapere che in occasione adesso se non mi ricordo male di salon squad si ricordi bene io il buon agostino dovevamo montare tutta una serie di video video degli imprenditori della bellezza quindi che cosa è successo perché avremmo dovuto montare questi video perché poi questi video li avremmo trasmessi a salon squad che è stato un evento fighissimo li dovevano trasmettere sul maxi schermo davanti a 1200 persone una figata mondiale quindi che cosa succede che gli imprenditori della bellezza di turno compresa terry girano i loro video e poi ce li mandano cominciamo a montare i video bello insomma in agostino ci divertiamo fino a che a un certo punto ci troviamo a montare i video di terry e terry candidamente che cosa faceva quando registrava i suoi video premeva rec ma poi si dimenticava di ripremere rec quando magari aveva finito di fare un take e quindi ci siamo gustati anche tutto il retroscena di terry che in maniera cattiva ve lo posso assicurare cattiva imprecava in veneto contro suo marito e quindi voi immaginate io agostino a mezzanotte luna era più o meno che avevamo già montato tipo dieci video arriva questo video in cui vediamo terry che impreca in veneto c'è stata una roba veramente un momento meraviglioso arrossisco tutto orale perché io veramente questa cosa poi non ti dico mio marito perché che quando ti ha inviato tutto il materiale non sapevo che ti mandava anche tutto questo resterà storia resterà storia questo è così è così mario pacello dice vero il no al cliente non si dice ma si può dire altro assolutamente mario napoli quanto tempo abbiamo ancora per fare il video hai tempo mario la sfida è lì aperta però voglio dire ma tu fallo ma buttati anche perché tra le altre cose c'è da dire una cosa una cosa da non sottovalutare i video sfida di me e terry sono nel gruppo imprenditori della bellezza e il gruppo imprenditori della bellezza è un ambiente molto protetto perché è un ambiente molto protetto beh innanzitutto perché il livello dei membri è già un livello decisamente alto in virtù di un certo tipo di selezione che viene fatta all'ingresso ok ma anche nel momento in cui ci fosse qualcuno qualche brillantone che se ne esce con qualche commento poco felice cioè ma tu hai presente quanto ci mettiamo a a zittire qualcuno che si comporta in un modo del genere ma più che a zittirlo è brutto dire a zittirlo a fargli capire perché se eventualmente si permette di dire qualcosa fuori luogo non è il caso che lo dica perché noi ci stiamo impegnando a fare qualcosa di 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 figo che ti permette di di elevarti a qualcosa di più di quello che eri prima perché come ci ha ricordato da buona terri fare video insomma è anche questo valeria valli mario sono la super michela viene tutto bene anche se non vuoi sorridere nella foto ok gloria l'ho fatto e cancellato almeno 15 volte gloria tra l'altro possiamo dire che cosa faremo io e gloria la settimana prossima gloria dico cosa facciamo la settimana prossima e te insieme terris tu sai cosa facciamo gloria la settimana prossima non lo saprai e non lo saprà nessuno perché è segreto e lo scopriremo tra circa tre settimane sul canale youtube di protago e anche sul gruppo imprenditori della bai un'intervista allora fai un'intervista ma chi può dirlo magari è un intermista più che un intervista non so mi è venuta così non so perché l'ho detto scrivi prima che nel gruppo di b nella lente in alto vedrai che lo trovi diana come al solito è sempre sul pezzo da consigli a destra manca su come andare a trovare le sfide ma comunque ragazzi ve lo metto il link ragazzi esatto dopo quando la diretta finisce mettiamo tutti tutti i link di tutte le sfide così almeno possiamo potete sbizzarrirvi e poi di conseguenza io e terri possiamo sbizzarrirci a rispondere ai vostri video dai che facciamo un casino strega ma attenzione c'è anche alessandro picchianti vai vai terri di di ciao ale no dico che veramente se vengono prese così come sfide del dire ok mi metto in gioco lo faccio basta fare una cosa molto semplice mica devi fare chissà che in palcatura di luci e altro e dopo veramente dopo due tre sfide penso che ci siano delle persone che lo possono testimoniare ma l'abbiamo visto con i nostri occhi ti cambia completamente il modo di comunicare già con le prime due tre sfide l'abbiamo visto quindi fatelo premete rec fatto in maniera molto semplice si tra le altre cose mi rivolgo ad alessandro picchianti alle credo che questa mattina un po ti siano fiscate le orecchie perché ho parlato di te con mia sorella stavamo affrontando il discorso social per quanto riguarda i creatori d'immagine mio salone e stavo raccontando di come dobbiamo affrontare questa sorta di upgrade c'è la nostra comunicazione su social la comunicazione dei creatori d'immagine voglio che abbia un upgrade potente nei prossimi mesi e quindi gli raccontavo di quella che è la tua esperienza ale su su tik tok di tutto quello che hai raccontato a me a terry nella diretta che abbiamo fatto qualche settimana fa ecco se non vi siete visti la diretta che abbiamo fatto io e terry la settimana oddio non mi ricordo più perché sto facendo tante di quelle dirette stiamo facendo tante di quelle dirette che francamente non mi ricordo più quando è stata questa diretta qua comunque abbiamo fatto una diretta molto bella con alessandro picchianti di i love blonde che è un personaggino di un certo tipo che fa video in maniera sistematica da un po che sta ottenendo da quei video dei risultati pazzeschi del quale ci ha parlato del quale dei quali ci ha parlato proprio durante la diretta quindi insomma andatevi a vedere anche quella perché è piena di contenuti fighi riguarda i video che vi possono dare modo di fare più di un di un ragionamento è un'arma a doppio taglio ma se sai tagliare taglia bene diana fabris da buona protagonista se ne esce con questa frase che racchiude la verità sul teleprompter ma io l'adoro quella donna io l'ho detto tempo fa voglio una gopro su diana ma nessuno mi sta a sentire anch'io la vorrei non vedo di fare percorso protagonista non vedo chi dice questa cosa mannaggia porca misera mi dispiace vedo però debora che dice non te ne pentirai un'esperienza unica e indimenticabile porca misera non riesco vabbè chiunque tu sia che verrai a fare percorso protagonista sì sarà un'esperienza unica e indimenticabile te lo posso garantire perché come dico sempre a chi si si affaccia a questo percorso si interessa a questo percorso e come per la verità dico a chiunque a qualunque persona con la quale parli di questo percorso è un percorso che ti cambia non solo a livello professionale che da non solo qualcosa a livello personale ma che ti trasforma proprio a livello personale perché poi alla fine la comunicazione non è qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente la sfera professionale della nostra vita ma anche quella personale infatti io alle dico sempre che è stato uno degli investimenti più importanti della mia vita percorso protagonista ma non solo appunto per fare video ma perché mi ha cambiato personalmente io ho fatto proprio un percorso di crescita completamente diverso intanto ero timidissima e mi ha aiutato tantissimo ad uscire da questa timidezza rapportarmi a comunicare in maniera diversa quindi io dico sempre che è uno dei percorsi che mi hanno proprio cambiato tantissimo sì beh ma ma è così non è un caso se se tu vai a vedere terry beh sicuramente l'hai visto perché me l'hai commentato se tu vai a vedere mamma mia mi sono perso ah sì se tu vai a vedere sotto alla quinta sfida quella dove tu racconti il modo che hai di vivere la professione sotto io ho messo un video commento nel quale racconto il mio modo di vivere la professione e il riflesso di come vivo la professione è proprio il fatto che ho partecipato a inconfondibile al percorso protagonista quindi capisco perfettamente quello che dici perché sono due percorsi trasformativi che su di me hanno avuto un impatto impressionante cioè se oggi probabilmente sono qua a fare questa diretta con te è anche perché ho fatto percorso protagonista perché altrimenti non potrei starci qui no con tutta questa tranquillità non ho fatto il video della sfida ma ho risposto ad un post di una collega con un video ci dice gloria va bene gloria ti perdoniamo ma aspettiamo comunque il tuo video nazarena invece ci dice ciao ragazzi noi stimolate dai vostri input abbiamo iniziato a fare video approfittando degli auguri per le feste passate ci è piaciuto ricominciare quindi ora ne prepareremo altri abbiamo visto che le clienti ne sono entusiaste e hanno parlato con chi non ci conosce e quindi hanno incentivato il passaparola grazie sì 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 assolutamente bene bene mi fa piacere io non vedo nessun commento alle non riesco a vedere i commenti no no vai tranquillo li vedo perché io vedo che praticamente su instagram nessuno sta commentando cioè vedo un po di gente che partecipa per la verità ok però non vedo non vedo non vedo commenti vabbè mentre quelli di facebook li vedo tutti emanuela chester ci dice ciao emi innanzitutto un bacione percorso protagonista dovrebbe diventare un percorso obbligato sì assolutamente perché per come la vedo io è proprio la scuola che dovrebbe imporre uno studio sulla comunicazione condivido è proprio da scuola che dovrebbe partire una cosa del genere purtroppo a scuola questo non succede e poi insomma si possono assistere cioè si può assistere ad alcuni drammi di proprio gente che fa davvero fatica ad esprimersi ma comunque al di là di chi ha delle difficoltà è comunque qualcosa che andrebbe veramente insegnata da scuola da quando uno è bambino l'insegnamento dovrebbe essere costante non dovrebbe terminare mai perché poi alla fine da come comunichiamo dipendono ma veramente tantissime tantissime cose come comunico ha un impatto sui clienti ha un impatto sui collaboratori ha un impatto sui partner sui fornitori su 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 tutto su tutto quindi assolutamente bene 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 allora fammi andare un attimino a vedere terri intanto terri di qualcosa canta fischia perché io mi ero degli appunti sulla mia incazzatura non era finita lì l'alto in canona devo chiudere un attimino i commenti qua perché mi ero segnato una cosa da io guardo in questo momento vorrei diana qui al mio fianco per capire come fare a vedere i commenti altro che la gopro su diana a ecco che cosa mi sono segnato mi sono segnato questa cosa perché oggi per altri motivi vabbè li dico i motivi cos'è meno intrattengo anche un po con qualche racconto di quello che faccio durante la giornata che ve ne fregherà meno di niente però ve lo racconto lo stesso no scherzi a parte mi sono preso queste ultime due giornate lontano dal salone mi sono dedicato solo a quello che devo fare per protago e sono state due giornate all'insegna della produzione degli storyboard per i video nuovi che dovrò andare a fare e poi mettere sul sul canale youtube di protago da qui alle prossime quattro settimane arriverà un sacco di roba nuova sul canale e poi il fatto di avere continuamente contenuti nuovi sul canale di protago sarà una costante che io il buon agostino alimenteremo veramente in maniera potente stanno per arrivare delle cose vi assicuro che saranno croccanti oserei dire detto tutto questo che cosa è successo che in virtù del fatto che stavo per l'appunto preparando gli storyboard ero insomma alla ricerca di un po di materiale quindi cazzeggiavo in internet a destra manca e sono capitato su questa frase che trovo molto appropriata che voglio condividere con voi e con te cara terry allora ascolta perché a me è piaciuta molto non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni non pensate alle vostre frustrazioni ma al vostro potenziale irrealizzato non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di ciò che vi è ancora possibile fare e questa questa citazione questa frase è pensa un po del papa del papa e io per quanto sia distante dalla religione la religione non è che mi piaccia granché soprattutto quando viene associata alla chiesa è una roba che non non tollero però insomma quando una frase trasmette qualcosa di davvero potente è bella appunto e basta a prescindere da chi la dice il famoso prendere il meglio del meglio dei tutti un'altra cosa che a noi tanto cara terry e ho voluto prenderti questa frase terry perché dalla sfida che tu avevi lanciato nella quale raccontavi una delle tue paure fare video e nel quale chiedevi agli imprenditori della bellezza di qual era la loro paura ecco insomma di paura ne sono venute fuori diverse e ho trovato questa frase ho detto la racconto a terra di poteri perché insomma avendo fatto quel video può apprezzare sì ma è moltissimo tra l'altro grazie è proprio bella grazie che lei condivisa anche perché in un momento storico come quello che stiamo vivendo ale se ci concentrassimo di più su quello che possiamo appunto fare su quello che abbiamo sul potenziale da sfruttare sicuramente avremo una visione un po più limpida di quella che c'è adesso che a volte siamo proprio fuscati da tutto quello che ci viene bombardato addosso e dal momento che stiamo inevitabilmente vivendo e vedo tanti commenti di persone che si lamentano di parrucchieri che sono in difficoltà però questa frase forse riassume un po tutto quello che possiamo fare in questo momento no cioè cambiare visione cercare di vedere il buono che c'è dire ok cosa posso fare e farlo mettersi a farlo agire bello sì sì sono sono d'accordo cioè nel momento in cui tu sei di fronte ad una paura adesso stiamo la stiamo facendo veramente semplice ok sulla paura ci sarebbe da parlare da dire un mondo l'edizione di percorso protagonista del 2021 sì la prima se non vado errato l'ho aprendo proprio l'ho aperta proprio facendo uno speech sulla paura di una decina di minuti perché è chiaro che sulla paura che ti viene nel momento in cui ti devi mettere davanti a un video c'è un sacco da dire anche perché teniamo presente che la paura di parlare in pubblico è una delle tre paure più diffuse fra le persone cioè con tutte le cose molto più paurose che ci sono parlare in pubblico è una delle paure più diffuse e questo ha a che vedere con con la reputazione con qualcosa di legato alla reputazione che succedeva tantissimi anni fa quando vivevamo ancora in tribù in comunità insomma adesso non sto qui a farla tanto lunga però chiaramente confrontarsi con la paura è importante allora il primo input qual è non concentrarti tanto sulla paura quanto su quello che potrai ottenere su quali sono le tue speranze i tuoi sogni su quello che diventerai nel momento in cui supererai quella paura premerai finalmente rec proverai a fare un video quindi insomma c'è tutto questo meccanismo legato alla paura che è da affrontare però come detto il gruppo imprenditori della bellezza è un gruppo protetto avete è un ambiente protetto avete a disposizione me e terry e insomma non è una cosa da poco anche perché tenete in considerazione che io e terry poi non saremo a disposizione ancora per molto in che senso che spariremo dalla vista non ci faremo più vedere assolutamente no ci saremo ancora faremo ancora delle nuove sfide saremo molto spesso in diretta perché abbiamo dei progetti non però c'è da dire anche che adesso a maggio comincia play che è un prodotto di protagono un prodotto quadrimestrale e quindi io e terry avremo il nostro bel da fare poi arriva la data di percorso protagonista insomma adesso siamo un pochettino più liberi e quindi siamo a vostra disposizione perciò raccontare ve l'abbiamo raccontato il perché della mia incazzatura l'avete capito anche se era un'incazzatura diciamo fittizia però insomma i video sono lì scatenatevi perché la bionda e il pazzo sono sono pronti a darvi anche due mani per per far sì che voi possiate decollare con i video ma poi guarda le incazzati più spesso perché se le incazzature sono queste poi chiuso con una frase così carina che sì dai abbiamo fatto è stata è stata una bella diretta sì sì per me sì poi antonia tra l'altro ci dice alessandro poi ci scrivi la frase prima citata sì assolutamente sì però sai cosa te la devo scrivere vediamo se te la riesco a mettere subito è dammi solo un secondo che magari copia andiamo qua nei commenti se riesco a fare questa combo qua basta ormai sono il re delle dirette questa cosa veramente io sono basita attenzione boom è andata a me poi me la mandi perché io comunque non la vedo ora ma con le tue speranze i tuoi sogni c'è 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 devore cisano ci dice bellissima diretta grazie ale grazie terry no grazie a voi grazie a voi perché io mi sono proprio divertito terry tu ti sei divertita sì tantissimo è bellissimo stare in diretta commentare sì e poi questa cosa della diretta sorpresa poi siamo andati in diretta anche su instagram adesso vediamo cosa sarà successo su instagram poi novità mi piace ma te le tue sorprese mi fanno impazzire ale guarda sono proprio bellissime questa cosa qui è io sono in fermento sono in fermento perché chiama amici andiamo in diretta ok sì 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 bene ragazzacci dai io direi che per questa sorpresa per questa sorpresa sì certo per questa diretta sorpresa può essere tutto mi raccomando il concetto qual è il concetto è che è un momento di confusione la gente l'ha fuori confusa quando la gente l'ha fuori confusa ha bisogno degli interlocutori unici dei punti di riferimento autorevoli noi dobbiamo farci conoscere come degli interlocutori unici e dei punti di riferimento autorevoli per fare questo abbiamo uno strumento straordinario che sono i video e per chi vuole cominciare a spaccare con i video c'è una straordinaria opportunità nel gruppo imprenditore della bellezza ne abbiamo parlato a lungo in questa diretta nel gruppo facebook imprenditore della bellezza per chi ci sta guardando da instagram ne abbiamo parlato a lungo di in questa diretta delle sfide che abbiamo lanciato io e terry alla fine della diretta quando chiuderemo metteremo tutti i link di tutte le varie sfide cosa almeno se volete lanciarvi con i video potete farlo e avrete me e la bionda al vostro fianco sì sì poi vi metto il link grazie ragazzi noi terry ci rivedremo per la nostra prossima diretta non mi ricordo più quando credo martedì martedì vedi che mi stavo fregando come l'altra volta martedì sotto controllo martedì scusami a che ora sarà la nostra diretta alle 21 e 30 ecco vedete allora meno male che ho terry perché sennò sarei allora martedì alle 21 e 30 io e terry saremo in diretta sul gruppo imprenditore della bellezza a parlare di video con nuovi concetti nuovi input insomma ce la chiacchiereremo risponderemo chiaramente alle domande insomma ragazzi ci si becca live ci si becca martedì ciao a tutti ciao e grazie meno male che c'è terry martini dice legno lele canavero c'è anche lele faccia lele chi è chi è sì c'è anche il boss ciao boss ciao il boss ciao rosanna ciao nazarena ciao mario ciao debora ciao ciao a tutti ragazzi buonanotte ciao 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 buonanotte